ciao a tutti da vittorio l'europa league è una competizione importante soprattutto per squadre come la lazio per tanti motivi il primo è il motivo economico perché l'europa league è vero non dà i stessi soldi della champions league ma l'europa league dà sicuramente molti più soldi rispetto alla coppa italia inoltre ogni anno il monte premi dell'europa league aumenta in maniera importante per cui per una squadra come la lazio che per esempio non ha grandi entrate dal merchandising o altro è avere una fonte di ricavi come l'europa league è una fonte importante soprattutto più si va avanti nel gruppo nella competizione e più soldi entrano per la lazio per questo sarebbe importante per la lazio andare avanti allo stesso modo è importante come vetrina internazionale la lazio io lo dico sempre è indietrissimo dal punto di vista della promozione internazionale perché social account bianco celesti sono solo in italiano la società pensa solo a roma ai tifosi di roma e non quelli fuori dall'italia dal lazio e fuori dall'italia e quindi l'europa league è l'unica possibilità per promuovere brand lazio all'estero e per questo è importante andare avanti non solo ma anche da un punto di vista economico la lazio non ha uno sponsor sulle magliette e perché perché un brand adesso vuole promuovere un una squadra internazionale no il proprio il proprio logo deve andare sulle televisioni di tutto il mondo no avere tifosi in giro per il mondo per questo emirates sponsorizza la roma e non la lazio perché la lazio è focalizzata su roma e nessun sponsor spenderebbe cifre importanti per avere promozione solo a roma e quindi vincere o andare avanti nell'europa league darebbe quel risalto internazionale che potrebbe portare anche sponsor prestigiosi a sponsorizzare la lazio quello che adesso non accade e poi l'altro punto è che squadre come la lazio ma anche la roma napoli eccetera sono squadre che in europa hanno vinto pochissimo la roma non ha vinto niente il napoli non vince dai tempi di maradona la lazio non vince in europa dai tempi di cragnotti e quindi anche vincere un europa league che ovviamente non sarà come la champions ma è un trofeo importante un trofeo che porta prestigio a livello internazionale no guardate quanto è cambiato il siviglia dopo aver vinto più volte l'europa league ecco per questo un trofeo vincere in europa league sarebbe importantissimo per una squadra come la lazio detto questo però vista la situazione io mi auguro che giovedì in zaghi effettuerà un turnover ampio uno perché anche se la lazio dovesse vincere contro ren bisogna poi sperare che il celtic vinca fuori casa contro cluj il celtic è già qualificato e quindi è difficile pensare che al cluj che basta solo un punto per per qualificarsi non riesca a strappare almeno il pareggio in casa per cui bisogna essere onesti e dire che le speranze purtroppo per la lazio di passare questo girone sono in minime e visto invece come stanno andando le cose in campionato e come la prossima sarà un'altra partita importantissima a cagliare contro la squadra che magari sta un po perdendo smalto ma è sempre lì al quarto posto la lazio deve focalizzarsi sulla partita contro cagliari quindi giovedì sarebbe cosa buona e giusta che in zaghi schierasse le seconde linee anche per dare un'altra opportunità a quei giocatori che stanno giocando poco e uno delle cose per cui l'europa league è utile è per dar spazio e possibilità di esprimersi a quei giocatori che in campionato vedono pochissimo il campo per cui io mi auguro che contro il ren in zaghi opti per veramente un ampissimo turnover magari dando spazio di nuovo da decagna dal primo minuto e facendo riposare più titolari possibili anche perché anche perché abbiamo visto che luis alberto è uscito con un problema muscolare domenica sabato nella partita di juve marusic lucacus sono out insomma ci sono giocatori che non sono proprio al massimo fisicamente e per esempio lazzari sarebbe anche utile farlo riposare visto che sta giocando così con tanta intensità però c'è l'incognito di amarusic che ancora non sta bene per cui nonostante per me l'europa league sia una competizione importantissima che la lazio non dovrebbe assolutamente snobbare anzi dovrebbe provare ad andare fino in fondo in questo caso credo che sia meglio per la lazio schierare le seconde linee far riposare più titolari possibili per poi averli freschi lunedì contro cagliere una partita che è fondamentale è vero ogni partita da ora in poi in serie a è fondamentale per la lazio perché se si vuole andare in champions league non si può non si possono perdere punti la lazio ha questa striscia vincente deve cercare di allungare il più possibile perché bisogna sbattere ferro finché è caldo no si dice e quindi adesso che la lazio sta veramente giocando bene bisogna insistere continuare per provare ad allargare il gap con le altre perché cagliere e roma sono solo tra virgolette a quattro punti il napoli a 12 però siamo ancora a dicembre quindi la corsa è lunga e quindi bisogna provare ad allungare il più possibile per garantirsi il posto in champions perché ragazzi la champions league la qualificazione in champions league è sicuramente più importante anche della supercoppa europea ho letto persone che dicevano meglio non far giocare a cerbi contro cagliari perché è diffidato poi salta la supercoppa no la cosa più importante per la lazio al momento è la partita contro cagliari più importante secondo me anche della supercoppa e voi che ne dite scrivete nei commenti qua sotto ciao alla prossima ciao 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 ciao